Le parole che stiamo ascoltando fanno parte di un brano di Michele Mucciacito e Anna Bartolini interpretato dalla cantante Ipazia dedicate, avete visto questo volto meraviglioso alla piccola, grandissima Sara Matteucci La storia di questa bambina è la storia di una piccola, piccolissima bimba che è venuta a mancare a sette anni e mezzo nel 1986 dopo una lunga malattia trascorsa affidandosi a Gesù e Maria Angelo, Matteucci e Anice Garulli sono i genitori di Sara che ringrazio immensamente per aver accettato il nostro invito Grazie Grazie a lei Grazie, con un bacio grandissimo ad entrambi Roberto Mazzoli Roberto, buon pomeriggio giornalista, direttore del settimanale Il Nuovo Amico delle tre diocesi di Pesaro, Fano e Urbino autore del libro Sara Matteucci, il mistero della fede bambina edito dall'edizione San Paolo con la prefazione di Monsignor Piero Coccia Arcivescovo Metropolita di Pesaro Roberto, buongiorno Buongiorno Paolo Grazie di essere all'ora solare Come è venuto a conoscenza di questa storia che è una costante testimonianza di fede? Io appunto, come hai detto tu, lavorando in un piccolo giornale arrivano diverse lettere e tante testimonianze spesso, diciamo così, scartate dalle testate più note, più importanti e però sono storie, come dicevi tu, appunto sono delle piccole perle preziose e questa di Sara appunto è arrivata in questo modo attraverso una lettera di sua mamma, Nice che ha mandato queste poche righe in redazione per fare gli auguri in realtà era una lettera per fare gli auguri a suo marito Angelo per l'anniversario di matrimonio e in questa breve lettera accennava qualcosa ai propri figli e in particolare a Sara Matteucci appunto questa bambina che mi ha subito colpito Roberto, Sara si ammala a 5 anni 5 anni su 7 e mezzo che ne ha vissuti come, innanzitutto c'è da leggere il tuo libro prima di tutto però per raccontarlo ai nostri amici dell'ora solare questa bambina così piccola come vive la sua malattia? in maniera veramente sorprendente questo che appunto lascia senza parole lascia senza parole non solo il sottoscritto quando sono venuta a conoscenza di questa storia che poi era stata raccontata dai genitori in un diario l'anno seguente alla morte di Sara un piccolo diario di poche righe, insomma, di poche pagine e in questo diario comparivano anche tante altre voci come quella di tanti sacerdoti della nostra diocesi di Pesaro che avevano accompagnato Sara ne viene fuori appunto un racconto di una chiesa domestica la fede di Sara è una fede semplice vissuta in famiglia con la nonna, con gli amici a scuola nei luoghi appunto della sua infanzia Mercatello sul Metauro che è un piccolo paese dove vivevano appunto i nonni cioè i genitori di Angelo a Mercatello c'è un monastero c'è appunto la devozione a Santa Veronica Giuliani e quindi ecco si vede appunto come Sara annusa e respira questa fede sin dall'infanzia da piccolina alle mesi di maggio e lei ad esempio a condurre la coroncina del rosario in giro per le abitazioni del suo paese e quindi ecco è veramente una fede semplice ecco come quella che viene insegnata nel Vangelo con le parole di Gesù insomma L'altra domanda dovrebbe essere perché hai voluto raccontare a distanza di 30 anni questa storia in un libro in realtà è una domanda che contiene già la risposta si doveva fare, vero Roberto? Era giusto farlo? Hai detto bene, mi sono accorto con quella famosa lettera di cui dicevo prima quando l'ho pubblicata sul giornale dopo aver fatto diverse telefonate e varie ricerche per essere sicuro di quello che andavo a pubblicare mi sono accorto che appunto in redazione arrivavano tantissime richieste per sapere qualcosa di più non bastavano poche colonne di un giornale bisognava raccontare qualcosa di più mi chiamavano per sapere cos'altro potevo dire a quel punto ho dovuto per forza mettermi sulle tracce di Sare ho scoperto veramente un mondo Bravo Roberto sono l'ultima della lista della serie a dirti bravo però bravo perché l'impegno e il lavoro sono anche questo mettersi a disposizione di una storia grandissima Angelo e Anice intanto io vi guardo vi posso mandare il mio affetto soltanto da lontano però arriva a casa proprio dritto e diretto scusatemi allora l'incontro tra le tante immagini che voi avete nel cuore e portate nel vostro ricordo l'incontro con San Giovanni Paolo II con Papa Karol Wojtyla cominciamo cominciamo da quel momento che vediamo vediamo in questa immagine chi me lo racconta? questo incontro è avvenuto in una maniera un pochino raccambolesca perché Sara in quel momento stava ricominciando a stare bene dopo un anno circa di cure dopo la malattia e quindi per noi era un momento dove riuscivamo a scaricare tutta la nostra tensione perché eravamo innamorati anche noi di Giovanni Paolo II lo era Sara e quindi siamo riusciti ad andare lì grazie anche a Don Giuseppe Zambalbiri dell'Opera Don Orione che si ha fatto un pochino da tramite e che ci ha dato anche l'opportunità di arrivare in prima fila dove Giovanni Paolo II poi è deciso salutarci con quell'abbraccio che vedete nella foto appunto noi avevamo preparato tante cose da dirgli perché volevamo dirgli chiesa che cose eccetera se siamo solo commosse non siamo riusciti a dirgli niente Sara invece in quel momento è riuscita a dirgli Papa ti voglio bene poi non lo so perché noi piangevamo e quindi chiaramente era lei e lui insomma e poi si vede dalla foto l'intensità dei loro sguardi sicuramente sicuramente arriva era il suo Papa Papa Voitiva viene eletto nel 1978 è l'anno di nascita di Sara esatto era il suo Papa Papa ti voglio ti voglio bene guardate questa immagine guardate con quale e quanto e tanto immenso affetto il Papa abbraccia questo questo piccolo gigante Roberto Mazzoli ricordando le lettere le tante lettere arrivate in redazione ecco ne riparleremo ci ha parlato dell'Argentina Roberto arrivo tra un attimo da te ma chiedo ad Angelo ad Anice il legame con l'Argentina nasce in realtà molto tempo dopo siamo a un siamo a un passo dal 2000 perché Anice perché Angelo essendo un ex allievo di Don Orione da quando l'ho conosciuto io rappresentava gli ex allievi di Don Orione e quindi prima era presidente delle Marche poi la congregazione era ampia quindi era diventato presidente addirittura anche fuori dall'Italia e in quel periodo noi dovevamo fare le notte d'argento e Angelo aveva già in programma questa riunione che avevano nel Brasile mentre lui era in riunione a Roma io con gli altri figli però soprattutto Omar perché era il più grandicello vedendo un filmato sull'Africa povera ci siamo sprofondati nel divano e abbiamo detto Omar come facciamo noi a fare una festa per le nostre notte quando ci sono bambini che muoiono che muoiono che muoiono di fame e di lì io a Omar quella notte abbiamo detto se noi rifiutiamo i nostri regali che saranno regali anche sostanziosi perché abbiamo tanti amici e tanti parenti potremmo fare qualcosa di buono quindi al ritorno ne abbiamo parlato con Angelo Omar era d'accordo i fratellini più piccoli anche e così è nata questa cosa perché lui doveva anche trovarsi in Brasile dove delle suore dovevano costruire delle casette per le capanne per le famiglie che vivevano nelle capanne e di lì è partita questa cosa che noi con le nostre notte abbiamo dato 7 milioni e mezzo poi la cosa non si è fermata lì perché amici e parenti ci hanno aiutato è andata avanti questa cosa una casa per i bambini di Barrancheras dico bene vero di Barrancheras sorrido perché veramente siete una una famiglia meravigliosa voi siete un pezzo di cielo staccato e arrivato sulla terra e quindi proseguite e andate e andate avanti Anice molto molto colpito dalla storia di Sara e qui è una gara citare le persone più belle è stato anche Fabrizio Frizzi persona che lei conosce bene meravigliosa diciamo meravigliosa e comprende tutto ecco com'è stato questo vostro incontro non lo so guardi io è una persona così a parte che non sono molto amica dei personaggi televisivi però veramente in lui abbiamo notato una cosa che non è da tutti le dico solo questo particolare la prima sera che lui ha saputo di Angelo che tornava dall'Argentina ha scattato una foto a tante persone vicino a lui volevano le foto e a un certo punto mi sono tirata indietro e qualcuno mi ha detto ma perché non fai la foto conflitti perché non lo voglio disturbare perché lui aveva notato questa cosa questa non so come spiegarlo ecco lui aveva qualcosa di diverso dagli altri che a me era entrato dentro poi finito le foto con Angelo Ivo Pulcini eccetera è lui che mi chiama signora ma lei perché non viene con noi di lì è nata questa forte attrazione per lui e lui per noi e la sera che gli abbiamo dato il libro di Sara non me lo scorderò mai perché lui era nel parco con noi che continuava a parlare di questo e poi a un certo punto io dico però tu stai facendo tardi e lui mi fa sì c'è la mia ragazza alla porta che mi aspetta perché proprio non voleva andarsene ecco era con noi signora è nel mio cuore e Fabrizio era lei ha fatto la Polaroid proprio lo scatto e frum è uscita fuori la fotografia perfetta 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 allora torno da Roberto Mazzoli Sara Sara sette anni e mezzo solo sette anni e mezzo di vita coltiva un rapporto privilegiato di amicizia con Gesù con l'Eucarestia con Maria questa grande maturità spirituale di una piccola bambina come sei riuscito a renderla all'interno di questo libro ma guarda hai detto bene la grande maturità spirituale è quella dell'infanzia spirituale è quella che ci ha insegnato anche Santa Teresa di Lisier è il percorso che poi in realtà il libro in effetti parla di Sara ma racconta anche un po' tutto il percorso della Chiesa sin dalle parole di Gesù nel Vangelo se non le ritornerete come bambini e tanti altri passaggi che ben conosciamo c'è un lungo percorso della Chiesa su questo tema che arriva fino ai giorni nostri fino poi all'esortazione di Papa Francesco Gaudete ed Exsultate dove siamo chiamati appunto tutti alla santità e lì viene detto appunto bene questa piccola via è l'infanzia spirituale che non è regressione non è infantilismo no 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 assolutamente Sara appunto è come dire è la testimone di tutto questo è una delle tante testimoni in questo caso la sua storia è veramente incredibile ecco vedere come era lei a consolare ad esempio i genitori in questa prova difficilissima della malattia sin dall'inizio appena entra in sala operatoria lei appunto prendere il volto della mamma tra le mani per consolarla e dire mamma io voglio più bene alla Madonna che a te e poi questo suo incessante desiderio dell'eucarestia per Sara l'amicizia con Gesù e la Madonna è un'amicizia reale non è un'amicizia astratta è veramente reale sai Roberto noi abbiamo terminato il nostro tempo tu hai detto la cosa più bella un'amicizia reale che i bambini i bambini i bambini non hanno filtri i bambini i bambini sono diretti e direttamente arrivano ma il tuo libro e la storia di Sara e Angelo e Anice e tutta la loro famiglia hanno fatto sì che da quando questo libro è uscito tantissime persone si riechino a portare un fiore in più a Sara a ciò che di Sara è il ricordo su questa terra questo è altrettanto importante questo significa aver colpito nel segno e nel cuore delle persone io come dico sempre facendo impazzire la mia produzione Vincenzo Guida che ringrazio ogni giorno aspetto Angelo e Anice a Roma vi aspettiamo a Roma dentro lo studio dell'ora solare non appena potrete essere presenti per favore e ride Anice sorride per piacere per piacere per piacere ce la faremo ce la faremo è molto difficile grazie lo so lo so Anice però io le cose difficili le amo tanto e quindi provo a buttarmi in avanti cercheremo di farlo Roberto grazie mille grazie a voi Roberto Mazzoli un grazie rotondo noi ci vediamo domani l'ora solare grazie a tutti voi per averci seguito fino a questo punto grazie di cuore oggi più che mai due pezzi di cielo i tuoi occhi azzurri e limpidi profumo d'acqua d'angelo e di Anice collane intrecciate varie pinte margherite il cesto con le fragole le noci rideresti e di più di più di più gioia vestita da rosa Dondola, dondola, dondola L'alzalena arriva al cielo E la parca alla spiaggia Dondola, dondola Dondola, dondola, dondola Su questo spicchio di torta di mele Presto arriveranno i giorni Come a tu